Oggi un altro appuntamento, o meglio, l'appuntamento si rinnova, questo appuntamento che vede moltissimi donatori recarsi qui al Marrelli Hospital, è un gesto importante, quanto è importante? Allora, intanto è diventata una piacevole tradizione, quello che ci piace di più, quello che ci dà molto più gratificazione è che non è tanto le sacche di sangue che ovviamente sono importanti per chi ne ha bisogno, ma il fatto di aver creato una sinergia positiva con il mondo cosiddetto profit, che non è una cosa così tanto comune da trovare e quindi intanto l'intelligenza e la disponibilità del Marrelli Hospital ci fa enormemente piacere. Senza falsa modeste dobbiamo anche dire che il Marrelli Hospital ha trovato un partner affidabile, un partner sicuro. L'importanza della donazione, soprattutto in questo periodo estivo, è se possibile ancora più importante, ancora più interessante, perché in questo periodo ci sono problemi connessi a cari di pressione, la gente che va in vacanza, eccetera, però le esigenze legate alle sacche di sangue appunto non diminuiscono, anzi, per certi versi possono aumentare. Quindi queste sacche che noi prendiamo oggi sono ancora più importanti di quelle prese nel corso dell'anno. Siamo al secondo appuntamento per quest'anno e devo dire che come le altre volte la risposta è stata molto ampia e questo ci soddisfa. Noi ovviamente ci teniamo molto a promuovere questo tipo di attività, a donare un gesto nobile che può aiutare a salvare vite. E quindi in quanto operatori sanitari noi siamo più che predisposti e propensi a promuovere questo genere di attività. Siamo già oltre le 30 donazioni, ci sono ancora molte persone in lista che stanno facendo la fila, quindi è un'ottima giornata per le attività di tipo sociale, di tipo diciamo quelle buone, quelle che ci fanno sperare in un futuro migliore per la società in generale.